Per mantenere afferrati ancora i glutei ed andare nella posizione della lepre, mentre mento alla gora, scendo giù, sollevo, cammino con le ginocchia e sciolgo. Da questa posizione vado a scaricare, inspirando ed ispirando vado giù piano piano, sciolgo, appoggio le mani, cerco di portare il mento al tappetino, ogni volta che inspiro cammino, cammino e stendo e mi lascio andare. Continuo a tenere la posizione, poi da qui quando mi sento pronto, mi ispiro, porto il braccio destro sotto e vado in un piegamento, in una torsione, in una distensione. Ok, quindi quello non deve essere perpendicolare il braccio ma può essere, può arretrare. Sì, allora nel mio caso io ho una cuffia rotatoria e una dinamica abbastanza buona, più vai giù chiaramente maggiore sarà l'apertura, ok. Però non è consigliato se senti dolore. Ok, certo. E poi da qui scendo, piano piano, risalvo e faccio la stessa cosa sul lato opposto. Sono in quadrupedia e scendo, vado piano piano giù e sollevo il braccio. Io addirittura mi trovo bene a fare questo movimento, ok. Però questo è un movimento avanzato che ha bisogno chiaramente di un'apertura molto molto umana della scapola e dell'acradicola.